e la DS7 Crossback presenta degli interni molto particolari anche perché ha dei display molto interessanti e parliamo al plurale perché sono più di uno ci racconta tutto Ismaele Iaconi in quest'altra pillola della DS7 Crossback l'offerta di DS7 Crossback è un'offerta importante è un'offerta unica nel suo segmento in effetti avere due display da 12 pollici la pone al top nel segmento C-SUV partiamo dal display centrale è un display 12 pollici HD un schermo capacitivo per l'interfaccia multimediale per il DS-Connect e per l'interfaccia con lo smartphone quindi con il modulo Mirror Screen infatti i tasti sotto il display sono tasti che consentono di interfacciarsi con le funzioni multimediali dell'automobile per passare poi alla display un altro display da 12 pollici digitale dietro il volante un display che ci dà indicazioni su tutte le funzioni dell'autovettura di DS7 Crossback ed è personalizzabile infatti il guidatore può scegliere che cosa può vedere e può scegliere le funzioni e le informazioni da leggere inoltre la collaborazione con la casa di alta orologeria artigianale che si chiama BRM Chronograph pone al centro della plancia un orologio che al momento dell'accensione esce fuori dalla sua custodia e si pone in posizione quasi verticale grazie a tutti